Buongiorno a tutti, Sant'Anché cerca di difendere e accusare i nemici, quelli che chiamano i sinistrati, comunque in questo caso nel posto parla dei Cinque Stelle, comunque Arianna, il tema è Arianna e tira fuori il filo d'Arianna, così perché Arianna, il filo d'Arianna, se la sorella della Meloni si fosse chiamata, mi viene da pensare Laura, forse avrebbe tirato fuori Neck, ma sarebbe stato meglio, perché poi il filo d'Arianna ci insegna tante cose, non è questa cosa così positiva che tutti cercano il filo d'Arianna per uscire dal labirinto, parla di la Sant'Anché in questo posto e fa confusione fra tante cose, ma il filo d'Arianna è un mito, non è un mito così, come dire, che il filo d'Arianna ti salva, il filo d'Arianna ti porta fuori dal labirinto, ma non ti assicura, cioè la cosa interessante che senza volerlo ha evidenziato la Sant'Anché, che se tu, cioè chi salva una persona, gli dà il gomitolo come Arianna per uscire dal labirinto, una volta ucciso Minotauro, perché è innamorata di questa persona, Arianna era innamorata di Teseo, non ne ha assicurato, non ha in tasca questa persona, l'ha aiutata e basta. Teseo, tornando a casa, sulla via del ritorno, sull'isola di Nasso, abbandona mentre dormiva, Arianna l'abbandona. Poi Arianna incontra Dioniso, che si innamora di lei, si sposano, Dioniso gli regala un diadema ad oro, non so se prima o dopo essersi sposato, ma per conquistarla, che poi viene lanciato in cielo e il mito dice che è per questo che si crea la volta celeste. Ma Teseo la tradisce, la usa, sapendo che lei è innamorata di lui per poter fare la sua missione, uccidere il Minotauro, tornare a casa vittorioso, ma tornando a casa si dimentica di sare le vele bianche, come d'accordo con suo padre. Suo padre vede le vele nere, che si era dimenticato Teseo, pensa che la missione sia fallita, che suo figlio sia morto, si butta, tuffa se, si butta disperato in mare, muore e di lì marregeo. La Sant'Anché ci aiuta a capire le vicende umane, che non sono così lineari, ma quello che dico io, siete rappresentanti dello Stato, informatevi prima di parlare, non ne dite una giusta, ma a livello proprio di cultura banale, generale, perché io il mito di Arianna lo conoscevo, ma non sono uno studioso della mitologia greca, però, per dire, la Sant'Anché, che parla tanto di turismo, il turismo di lusso, l'over-tourism, non abbiamo contratti prima a casa, ci sono i ragazzi, le nuove generazioni disperate, per cui, in questo caso, ha fatto un posto insensato, ha tirato fuori il figlio d'Arianna, soltanto perché la sorella della minoria si chiamava Arianna, di cui non c'è nulla, probabilmente, pare che non ci sia nulla di quello che dice Sallusti, ma qua si vive sul pare che Sallusti abbia detto pare che, questo, la magistratura dice che la vogliono depenalizzare, sembra che si siano inventati un complotto, per cui o c'è il complotto o è inventato. La mitologia greca ha già spiegato tutto, niente è così lineare e si usa il filo d'Arianna in maniera inappropriata, non è un mito così positivo. Arianna è stata tradita da Teseo e lo ha aiutato, e ricordatevi che se aiutate una persona lo fate per voi stessi, perché siete contenti di averla aiutata, ma non ce l'avete in tasca, non siete proprietari di chi avete aiutato. Grazie Sant'Anche per aver dato la possibilità di chiarire questo mito usato in maniera inappropriata, come succede adesso sui social, probabilmente, poi dicono che sono i social media manager, che sono cosa lì, non lo so. Va bene, scusate, volevo precisare questa cosa che è importante, Arianna, filo d'Arianna, non c'entra niente. Sant'Anche, Arianna, filo d'Arianna, non c'entra niente. Ciao.